Ok, ecco qui il secondo video Nel secondo video ti mostrerò invece come comporre usando una nota Lo stesso principio di prima è usare l'intensità di modulare ma usando una nota Tipo usare il dodicesimo capo tasto Uno, due, tre Uno, due, tre Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, dieci, dodici In Mi E giocare proprio a tirare Tirare su, tirare giù una nota Tutto il tempo così E seguirla con la voce Poi togliere sulla voce Cambiare l'intensità E serve questo esercizio per modulare Proprio di intensità Tirando la corda E di seguirla con la voce Togliere Sempre per magazzinare Proprio a livello mentale Aumentando e diminuendo Proprio per chiare intensità A questa nota E questo è un esercizio semplice Divertente Fatto apposta Proprio Per comporre E sapere una linea Proprio come Comporre con un'altra Tirando la bassa Ok Ciao a questo video Ciao a tutti